Guglionesi conferma il sostegno come ente che organizza con Valentina Fauzia l'Out-Out Festival, una scelta importante per portare la cultura sul territorio? Certo, Guglionesi conferma questa scelta che è iniziata già da alcuni anni, i risultati sono stati estremamente positivi ed è una scelta importante perché Guglionesi punta sulla cultura, anche il titolo di questa che è il cartellone, la cultura e la cura è interessante come titolo e diciamo alle spalle che cosa? La possibilità di dare alle persone, quindi soprattutto ai giovani, la possibilità di avere delle opportunità per ascoltare persone in ambito politico, in ambito giornalistico, storico, quindi è una possibilità che diamo al territorio. Guglionesi vuole starci e sta qui ed aspetta che il pubblico aumenti sempre di più.